1 down, 2 down, 3 down, holy! 1 è da me, 1 è da me, 1 è da me, oh my god! No, 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 sui il muro, così li lasciate proprio a me, tanto per la colla di schiaccare loro, eh, digli a quello di venire da me, lascialo stare, aspetta, mi do spostare, ma cosa ha preso? Eh, aspetta, ma te che anzi sei! Morta! Dai! Dai! Mi do una heal subito, barca arrivo, arrivo da te, arrivo da te! Arriba, ti facciamo attorno, sì! Perfetto! Thank you very much! Mi hanno sboccato mid! No, sei tu! Mi si fa un attraverso! Cerca e spazio! Parfetto! Qualcuno è tutto sicuro! т.F. La ha rifatto, mi sembra solo di rilascia. Qualcuno è tutto sicuro! Lo rimesso ora. Lo rimesso ora. E' stato di nuovo! Devono passare? 5 secondi di lì, 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 lì. Anzi, aliasso! Dai, 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 dai! 30 secondi rimasti! Bop! non so dove sia l'altro la bomba l'abbiamo 3 secondi non smoccar me la vita non smoccar me la mida ma ma troppo pure la base ha preso il mio pompa è quindi stato è distante era base nostra è qua però riprendere di lo vuoi che non serve il marcia al volo uno qua è l'anzato male è l'anzato male barca è aperto ok nonno però dico possono passare vado da condotti 11 è camperato nei condotti e mi sa che va verso mid si si è passato il guardian player quindi attenti ok questo qua ragazzi poteva arrivare dalla dalla fine via di a verso e vena vedi attenti il guarda comunque il pompa qua il pompa è troppo forte ancora mi ha fatto male questa morto c'è la sua nata c'è stata per qua non ho fatto lo shield ragazzi barca non posso riccare la bomba è qua da me 1b tunnel si 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 ho ultato ranga ma è stata una ult inutile forse passano da voi ho sbagliato ulti i'm very fucking sorry 16 mid barca vieni lo hittato 102 a cypher non possiamo ricantare uno sotto a window uno su plant bene bravi raga così almeno vai a 7 di caso muoio mid meno mi resti a me manca ancora tanto ok finalmente con il mio sniper boy solo volo in caso la stanno drogando no no è mid stanno entrando lì sono slovato c'è la bomba c'è la fateli fratta con la luti cercate di una piccola almeno possibile stanno l'entrata stanno lì ok ah tinta no io me ne ho ciso uno tuttizia dal cielo manca un solo niente last one you have the ulti 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 you have the ulti various e da no in what side forza in front of you potremmo mettere anche il plant a metà 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 alza oh no nice try nice try nice try nice try altre frecce da zombie eh guarda che non passa one down two down three down holy uno è da me uno è da me oh my god one in eight one in eight 30 secondi quindi vedranno sicuro aspetta la due io li blocco eh io li blocco pure col fuoco trenta secondi rimasto io la metto io la metto ma ne vado no via clear ma sono hanno sottolinea le cose i fini non lo so io sono nelle repli io sono solo sono solo sono solo so esattamente dove siete eh così ci aspettavo 10 secondi rimasto ancora passava sul plant ora è passato giusto ora arriva la festa ma c'è un solo minuto questo ancora passa mi sta scappando sta scappando sta scappando no non mi voglio dare l'ace nooooo dai quelle cose hanno fatto non mi scappi eccomi sono appena morto dai scuro vieni 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 su qui perché io la slow così hai tempo per piccare prendi la piccola dai 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 ora aspetta ok vai vuoi andare via via ora io corro corro ora abbiamo trollato 1 2 3 grande non ti paghiamo per quella che il però ora barca amura barca curami ma dietro uno basso e loro borghi uno e l'altro non lo so metti la q e passa tutta la granata così le basse è passato mi ha deciso si dovevi riusciare e provarci ok c'è l'operator sopra even momento decisivo non credo non credo non credo è pieno mid sono tutti hai la cura parca la cura ce n'era un altro lì sicuro sono convinta siamo cv 1 raga stai anche qua stai tornando ti spon nice nice terad terad go go one 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 is here ok ragazzi go 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 oh sono un b per il mio momento stage alla mid ora sto dormendo io ora mio almeno il si l'ho visto porca era condotto mi sa c'è io mi sono le va detto io ho detto in genere e in genere le reis mutono sempre qua dentro no 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 ha ultato da te marca uno sta qua si uno sta qua si uno sta qua stai a far ammesso la telegambera in mid uno sta passando stanno passando in window raga 6 ha morti due non sto da arrestare ok ho even ok non posso vedere even morito un altro sono even non abbiamo la bomba smuoccova perfetto bravo bravo wow mi mettono al metterlo al mio sponso si è buttato fallo a pezzare pure tanto la ultima non riesce a pezzare gligli gligli non facciamoci vedere sage mid vabbè però ma come fa si è volato i miei angoli state tranquilli mi sembri sage magari metto il muro quando quello glielo rompo cosa vuole flash up vuole andare iolo questa dovrebbe morire se non si leva dovrebbe morire finito c'è uno dentro doveva morire quello dentro se sova io ho fatto 130 ormai lui è lì esatto quanto ti manca la cura basta scherzare ora muori 30 secondi rimasti wow ma questo è l'unico no niente è un vero sorry io posso chiudere uno qua dietro qua dietro uno è avvenuto bravo bravo posso passare 76 80 sì chi ha la bomba forse le sottofondo scusami no scusatemi che hanno hanno rallentato pusha 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 ma mid no mi hanno dato la cam ragazzi sentite questa muro b e ce ne andiamo bravo andiamo in via allora andiamo in via andiamo let's go b we got the pick we got the pick no i missed i missed the wall sorry sorry ha messo il cage ho sbagliato ragazzi no 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 hai libera hai libera lascia i lascia i ok lascia i morta mi sembra una ialla vabbè tranquillo non mi serve non è urgente basta scherzare ho un tato ragazzi esplosivi lanciati 14 di sola no ma forti hp forti hp forti hp go 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 ferro di moto ferro di moto vabbè raga aveva 40 hp se non se lo faceva rosicavo avevo appena iniziato a scaldarmi 2 su 2 raga nice nice ii mi sa che qua li livelliamo a platino io penso sì io ho fatto la mvp per forza sto game lo vediamo eh sì io sono plat anche tua barca ii esco entrambi plat ok tempad 15 21 22 22 23 23 24 24